Musica Incidente nel pomeriggio di martedì 27 agosto poco prima delle 16 sulla 4.60 all'incrocio con Frazione Mastri nel territorio comunale di Bosco Nero. Un uomo di 64 anni, residente a Rivarolo Canavese in Frazione Argentera, che stava viaggiando in bicicletta, è stato investito in mezzo alla rotonda ad un'arancia Y, condotta da una donna Ibairo. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, l'elicottero 218, la polizia locale di Feletto e i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato e ritrasportato all'ospedale CTO di Torino, ha certamente in corso sulla dinamica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.